Oggi Franca ci svelerà tutto sul fantastico e misterioso mondo dei tarocchi. Ciao a tutti, io sono Franca Bisulli, sono una tarologa, mi occupo appunto di consulti con i tarocchi. Vi voglio parlare della loro storia, è una storia molto antica, una storia che molti ricercatori fanno risalire alla Mesopotamia. Poi attraverso un percorso dall'Oriente all'Occidente sono arrivati, sono giunti fino in Italia. In Italia abbiamo le prime tracce di tarocchi all'incirca nel 1400, dove venivano utilizzate prevalentemente come giochi, giochi di carte. Successivamente vengono utilizzati dalla borghesia, dall'alta borghesia invece, come intrattenimento, come voglia e desiderio di giocare, di giocare in maniera differente, soprattutto a corte. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove vengono veramente interpretati come degli strumenti di supporto alla persona e di aiuto e di sostegno in caso di necessità, di dubbi, di perplessità sulla vita, sull'amore, su qualsiasi tematica si ritenga necessario andare a indagare. Possono essere un concreto aiuto di evoluzione e di sviluppo per la persona e di crescita personale. Vi ringrazio e un grande saluto. Dopo aver scoperto tutto sul fantastico mondo dei tarocchi, vi ricordo di socializzare e seguirci sempre sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Un saluto da Andrea Evans.